Luca no! Mi sembra che sia una tragedia parli da sola, non penso. In tanti non vogliono parlare, solo qualcuno trova il coraggio di raccontare chi era questa famiglia. Una famiglia normale, qualcuno dice a microfono spento che viveva con sofferenza la situazione di disabilità del figlio Luca. Che persone erano, come vivevano la situazione di questo figlio? No, erano delle persone tranquillissime che vivevano con molta normalità la disabilità del figlio, come fa chiunque di noi abbia una persona disabile in casa, non ha mai dato segni di nessun tipo di questo squilibrio che poteva avere. Quindi niente poteva far presagire questa tragedia? Assolutamente niente di niente. Sono molti anni che abitava qui vicino, ma è sempre stato tutto molto tranquillo. È stato proprio un fulminaccio sereno. Da 20 giorni erano in Basilicata? Come fanno normalmente tutti gli anni. Loro hanno un'abitazione laggiù, vanno a ritrovare parenti e fanno le vacanze là. Lo conosceva bene il figlio? Sì, Luca, sì, molto bene. Mi chiamava sempre più vicino. Aveva questa piccola disabilità mentale, per cui aveva dei ritardi nell'apprendimento. Era un offensivo, buonissimo e socievole. Non riesce proprio a spiegarsi? No, niente. Sto cercando di capire ancora cosa può aver scatenato questa cosa in lui. Non so che ancora capacitarmi di questo.